Venite a scoprire l'Irpinia E le vite di uomini che hanno fatto la storia di queste terre Un Grand Tour lungo sei secoli tra storia, tradizioni ed enogastronomia Per riscoprire un'identità territoriale che è patrimonio inestimabile Da conoscere, valorizzare e trasmettere quale preziosa eredità futura Prendete parte al Grand Tour in Irpinia Un evento itinerante articolato in sei tappe, ognuna delle quali sarà ambientata in una diversa epoca Dal 1300 al 1800 Sei serati a tema e incentrate su di un personaggio storico E un prodotto tipico della tradizione locale E un prodotto tipico della tradizione locale E un prodotto tipico della tradizione locale Cene e spettacolo in abiti d'epoca che vi faranno rivivere le atmosfere e i sapori di un tempo dei borghi di Cassano Irpino Bagnoli Irpino Calabrito Montemarano Salsa Irpina e San Mango sul Calore una rievocazione storica itinerante tra territorio e sapori Quarta tappa Cena segreta alla Castagna alla corte di re Michele Capozzi 4 ottobre, ore 19 e 30 piazza Michele Capozzi Salsa Irpina in contemporanea la Sagra della Castagna Grand Tour in Irpinia Raccontiamo storia e tradizioni del territorio